Ciao cari amici, come sapete di recente il ministro degli esteri russo Lavrov ha visitato la Cina, è stato accolto in maniera molto calorosa, tra l'altro è stato interessante il fatto che quando è arrivato Lavrov lo hanno accolto con un'enorme delegazione, i leader del paese, Xi Jinping con lui si sono abbracciati e stretti le mani, sembrava veramente l'arrivo di un vecchio amico, hanno sottolineato che i rapporti tra la Russia e la Cina sono molto importanti, poi lui ha fatto diversi incontri con diversi rappresentanti del governo cinese, ha affrontato diversi riunioni e hanno parlato di vari aspetti della collaborazione tra la Russia e la Cina, ma soprattutto si è parlato della visita futura di Presidente Putin a Cina, sarà la prima visita estera di Putin dopo la sua elezione da Presidente della Russia e quindi si aspetta una visita molto importante, probabilmente saranno seglati, fermati importanti accordi, documenti e di questo si stava parlando e allo stesso tempo, nello stesso periodo abbiamo visto che è arrivato in Cina anche il cancelliere tedesco Scholz, lui è arrivato in Cina per una serie di questioni importanti, però è stato trattato veramente in modo molto contenuto, chiamiamo così in maniera elegante, perché a incontrarlo hanno mandato il vice sindaco quindi non è venuto neanche un rappresentante del governo cinese, è arrivato un vice sindaco, c'è la massima carica a incontrare Scholz durante il suo arrivo in Cina, è stato un vice sindaco e questo ovviamente, cari amici, è un modo in cui gli asiatici danno i messaggi ai rappresentanti occidentali e poi c'è stato anche un giro abbastanza fallimentare di Scholz, gli incontri che hanno portato a un fallimento diplomatico è molto importante che Scholz è venuto di persona, perché quando è venuta in Cina la Baerbock, il ministro degli esteri tedesco che è una persona totalmente incapace di essere ministro degli esteri, non è assolutamente in grado di svolgere questa attività una persona che non conosce bene la geografia, una persona che non ha un certo livello dialettico, una persona che non sa neanche l'etica della diplomazia voi ricordate che lei diverse volte è stata presa a schiaffi da diversi leader di diversi paesi o rappresentanti di diversi paesi ad esempio in Sudafrica, è successo pure in India dove lei ha cercato di fare la maestrina agli indiani anche in Cina è stata trattata molto male perché in certo punto si è messo a insegnare ai cinesi come loro devono comportarsi che rapporti devono avere con la Russia e in effetti a loro è stato detto mi scusi ma lei signora chi è per insegnare a noi che relazioni, che tipo di relazioni, in che modo e con quale paese dobbiamo avere cioè lei è venuta qua come ospite e come si permette di fare un discorso del genere infatti il ministro degli esteri cinese l'ha distrutta nel suo discorso io all'epoca l'avevo tradotto e condiviso sul mio canale privato Telegram queste cose purtroppo nella stampa italiana non sono stati approfonditi abbastanza così come avrebbero dovuto essere approfonditi comunque queste sono state le visite degli occidentali, dei tedeschi li ho citati giusto per capire la differenza tra due linee diplomatiche mentre la linea diplomatica russa ha un certo modo di comportarsi Lavrov è un grandissimo diplomatico, un grandissimo esperto Baerbock è una signorina che è uscita dalla scuola politica di Schwab e a parte le teorie confuse su presunte lotte e difese di certe minoranze o altre questioni che sono molto care per gli occidentali e per niente interessanti agli altri paesi del mondo perché gli altri si occupano di cose serie lei ovviamente non è capace, non è in grado di mettere in una discussione niente di utile e veramente rilevante dal punto di vista geopolitico comunque adesso cari amici volevo condividere con voi un interessante articolo che sicuramente voi non leggerete e non troverete da nessuna parte qua in occidente perché noi purtroppo abbiamo un sistema abbastanza rigido ormai di censura non ci sono giornali stranieri che possono essere comprati e letti qualcosa si trova grazie a Dio ancora in rete mentre la tv, la radio quasi l'abbiamo persa la tv ha anche spazio online, internet comunque diventa molto dittatoriale ci sono dei squadristi che attaccano coloro che condividono le idee che a loro non piacciono ci sono le piattaforme che mettono i loro strumenti di censura impedendo alle persone di condividere le loro opinioni di condividere le informazioni che loro ritengono interessanti e utili per la crescita personale oppure per la crescita della propria visione del mondo ecco, di recente sempre sul tema di collaborazione tra Russia e Cina un tema molto importante perché io ritengo questo tema importante? perché io penso che se l'Europa occidentale fosse stata in grado di essere almeno in parte indipendente dal dominio anglo-sassone la Russia per l'Europa occidentale sarebbe potuto diventare un alleato molto utile non solo per l'energia a basso costo per investimenti nelle materie prime nell'industria e in altri interessanti settori che sicuramente la Russia ha in abbondanza sul proprio territorio ma la Russia poteva diventare per l'Occidente per l'Europa occidentale intendo un perfetto spazio cuscinetto enorme tra la Cina e paesi d'Europa immaginate quante imprese avrebbero potuto lavorare con materiali e prodotti in Cina sistema di logistica e di smistamento creato in Russia gestito anche a basso costo comunque rispetto a quello che sistemi simili costano sui territori dell'Unione Europea e quanto avrebbero potuto guadagnare gli europei da questa Unione e da questa collaborazione si potrebbe parlare di un mondo di un continente in completo decollo sviluppato da tutti i punti di vista c'è l'unica cosa che esiste il mondo anglosassone Stati Uniti d'America storicamente si tratta di due mondi in controposizione io quando spesso parlo di geopolitica vi ricordo sempre che il creatore del pensiero geopolitico è stato colui che ha anche creato il concetto di due grandi sistemi del potere che sono strutture che lui ha specificato come ha indicato come sea power e land power quindi parliamo di il potere della terra il potere del mare quindi ci sono paesi che si sviluppano seguendo certi concetti certe strategie rimanendo attaccati al territorio e quindi hanno una certa etica hanno bisogno di sviluppare un rapporto amichevole con i propri vicini tendono di portare avanti lo sviluppo reciproco e così via e poi ci sono i paesi che sono paesi del potere del mare paesi che si basano sulla struttura diversa predatoria per loro il senso è speculare raggiungere un mondo e depredarlo schiavezzare la gente e fare diciamo applicare sugli altri quello che magari anche nella propria società non sarebbe possibile di applicare per via dell'etica delle leggi e così via e questi due mondi da sempre da quando l'uomo è diciamo diventato abbastanza maturo per creare le anche semplici strutture sociali questi due mondi sono in guerra tra loro basta ricordare Roma e Cartagine ad esempio e ovviamente l'esistenza di questo di questo potere che oggi è rappresentato sicuramente dal mondo anglosassone la Gran Bretagna stati unici d'America sono rappresentanti per l'eccellenza di questi di questo sea power di questo potere del mare impedisce al continente euroasiatico di sfruttare al meglio il proprio potere di terra quindi le guerre le speculazioni comportamento violento predatorio schiavitù colonialismo tutto questo viene portato da anglosassoni e proprio questo comportamento in maniera molto forte ha spinto la Russia verso la Cina non è che i russi con cinesi prima non avevano i rapporti per carità noi stiamo parlando comunque di due paesi che da sempre hanno avuto i rapporti in diversi periodi questi rapporti erano diversi ovviamente però in grande linee a parte qualche eccesso storico i rapporti sono stati sempre buoni dal punto di vista culturale almeno i russi i cinesi sono molto vicini ci sono diverse famiglie miste vi faccio ridere ma forse vi farò ridere ma nella mia famiglia c'è un bisnonno cinese era un mercante cinese che viaggiava spesso in Siberia poi si è innamorato di una mia bisnonna hanno creato la famiglia ebbero diversi figli in effetti poi dopo una parte di famiglia si è staccata addirittura dopo il con l'arrivo del bolshevismo dopo il crollo dell'impero zarista una parte della famiglia è andata in Cina e si sono rimasti lì e poi addirittura un antenato è apparso durante il periodo della guerra fredda addirittura in Giappone comunque questi sono i rapporti tra russi e cinesi sull'esempio mio personale della mia famiglia poi ci sono tantissimi altri adesso molti cinesi si sposano con le russe e i russi con le donne cinesi fanno figli insieme soprattutto nella zona di confine hanno ottime relazioni e non solo per questo i paesi sono stati sempre affini anche perché diciamo questa affinità era anche basata sulle sulle similitudini di di modi di programmi di sviluppo che venivano applicati in questi paesi quindi c'erano interessi reciproci come ad esempio commercio e così via nonostante questo la Russia poteva essere anche in perfetta sintonia con l'Europa occidentale perché ricordiamo sempre che l'Aquila imperiale russa ha due teste proprio perché si tratta di un paese che guarda in due direzioni e ha un'anima sia occidentale che orientale quindi se noi guardiamo la parte diciamo la più grande parte della Russia si trova nell'Asia la parte europea russa certo quella più abitata quella dove è concentrata diciamo è concentrato più numero di persone di abitanti dove storicamente la cultura russa ha progredito comunque rappresenta una parte minore della Russia la parte maggiore si trova nell'Asia e questo è un momento molto importante per questo motivo la relazione tra Russia occidentale e tra l'Europa occidentale e la Russia europea e relazione tra la Cina poteva essere benissimo compensato e equilibrato attraverso la Russia la Russia poteva essere quel perfetto ponte diciamo sfruttato in tutti i modi da tutti e potevano beneficiare tutti quanti il problema è che Stati Uniti d'America il potere statunitense ha spinto la Russia verso la Cina ecco cosa scrive in un articolo recente che ci tenevo a leggere l'ho tradotto apposta scrive un giornalista cinese sul giornale che si chiama South China Morning Post lui dice nel titolo già lui dice le pressioni dell'Occidente stanno avvicinando Russia e Cina Russia e Cina stanno cercando di portare i legami culturali a nuovi livelli gli scambi culturali tra i due paesi potrebbero diventare più regolari nei prossimi mesi poiché Mosca e Pechino celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche il leader dei due paesi Xi Jinping e Vladimir Putin hanno concordato che il 2024 e il 2025 saranno gli anni della cultura fa parte degli sforzi di Pechino e Mosca per avvicinarsi di fronte alla crescente pressione dell'Occidente come osserva la pubblicazione la cultura e l'arte occupano un posto speciale nella società russa ma dello scoppio del conflitto ucraino nel 2022 i creatori russi sono sempre più evitati in Occidente cioè artisti la musica io vi ricordo la Milano e la veramente brutale azione fascista dell'amministrazione milanese che ha mandato via il grande maestro uno dei più grandi direttori dell'orchestra russo Gergiev io vi ricordo artisti russi che nel 2022 sono stati mandati via dalla Venezia dalla mostra di Venezia e da altri insomma importanti appuntamenti culturali manifestazioni culturali in Italia tutto questo fa parte della realtà e proprio di questo sta parlando l'articolo la Russia viene censurata in Occidente l'Occidente sta rifiutando lo scambio culturale con la Russia si crea la russofobia però la Cina è pronta di aprirsi agli artisti della cultura russa perché c'è stato sempre un grande interesse da parte dei cinesi nei confronti della cultura russa in parte per rompere l'isolamento dell'Occidente Vladimir Putin che ha vinto in maniera schiacciante le elezioni presidenziali il mese scorso sta ora cercando di intensificare gli scambi culturali con la Cina Yang Cheng presidente esecutivo dell'Accademia di Governance Globale e Studi d'area di Shanghai ha affermato che sebbene ci sia molta interazione tra i governi nazionali c'è poca interazione tra le nazioni a livello culturale lo scambio culturale riguarda più le relazioni interpersonale il che non è del tutto coerente con la cosiddetta politica calda tra i due paesi ha detto Yang Cheng ecco perché vale la pena rafforzare ulteriormente gli scambi culturali l'enfasi sui legami culturali ha detto sposta i focus dei legami bilaterali dalla politica di alto livello comprese le questioni politiche o di sicurezza alle interazioni interpersonali cari amici e qua vorrei aggiungere che settimana scorsa ho letto un articolo molto interessante che è uscito su MK un giornale uno dei giornali più importanti in Russia un articolo che parlava di un'iniziativa molto importante che il ministero della cultura russo ha fatto in modo straordinario ha creato per i cittadini della Cina in pratica i cittadini della Cina si fanno apposta per loro dei programmi di visita culturale in Russia questi programmi avvengono in concomitanza con governo cinese e anche con delle organizzazioni che fanno parte di organizzazioni di lavoro cioè dei lavoratori sono specie di sindacati anche se non sono veri e propri sindacati però come se fossero i sindacati e questi in pratica mandano i cittadini cinesi ovviamente assumendo una parte delle spese di viaggio in Russia per dei viaggi culturali quindi cinesi vanno in Russia per stare 3-4 giorni in un posto preciso ad esempio vanno a Mosca e vanno subito a visitare galleria di Tretyakov un'intera giornata tra l'altro pranzo compreso pagato da governo russo tutto a spese di entrambi i paesi sia della Russia che della Cina quindi i cinesi pagano la trasferta cioè viaggio pernottamento i russi pagano ovviamente aprono gratuitamente le proprie strutture legate all'arte e alla cultura e anche offrono cibo e altre spostamento all'interno delle città del paese è un articolo interessante perché si raccontava di questa esperienza di questa signora cinese che da sempre voleva visitare teatro Bolshoi lei proviene di un paese adesso non mi ricordo il nome che durante la famosa liberazione della Cina da parte dell'esercito sovietico dalle truppe giapponesi questa signora era una bambina piccolina la sua madre era giovane donna e loro sono state salvate dai sovietici e allora un soldato sovietico siccome voleva dare qualcosa a questa povera gente che era lì e non aveva niente con sé ha regalato a questa bambina una cartolina sulla quale era la fotografia di una ballerina russa e dall'altra parte era la foto del teatro di Bolshoi e questa bambina ha questo ricordo ha vissuto tutta la vita con questa cartolina la sua madre le ha raccontato di questo soldato russo che li aveva salvati li aveva trattati bene e lei per tutta la vita sperava di riuscire ad andare in Russia prima in Unione Sovietica poi in Russia per visitare questo teatro Bolshoi però lavoro i figli la vita sempre bisognava fare le spese mettere da parte risparmiare puoi spendere per qualcosa quindi questa signora alla fine non è riuscito a diciamo realizzare il suo sogno e qua improvvisamente ormai da pensionata abbastanza avanti con l'età tra l'altro lei per lei è stato possibile di visitare la Russia e lei ha fatto questo viaggio con due dei suoi familiari è stata una grande emozione lei ha visitato teatro Bolshoi ha visto il balletto poi ha visitato la galleria Tretiakov hanno fatto altre visite sempre a Mosca e i cinesi hanno parlato molto bene di questa cosa l'hanno raccontata nella loro televisione e anche i russi hanno raccontato questa storia in questo articolo del giornale questo cari amici per farvi capire che l'avvicinamento tra Cina e la Russia non è solo un avvicinamento tra due sistemi economici collaborazioni a livello industriale politico e così via si stanno realmente unendo due popoli e è veramente un grande peccato che questa unione questa a mio avviso bella e profonda unione culturale questo processo così così naturale e così umano sta avvenendo in contrasto con un comportamento completamente innaturale che si sviluppa nell'Europa occidentale la crescente russofobia la il comportamento degradante e offensivo nei confronti della cultura russa stessa è veramente una cosa terribile e soprattutto terribile di vederlo applicato in Italia quando vengono vietate le mostre d'arte oppure fotografiche oppure gli eventi legati alla letteratura russa io vi ricordo soprattutto all'inizio dell'anno 2022 ma anche poi per il resto di durata di tutti questi anni quanti eventi legati alla letteratura russa sono stati bloccati ostacolati cancellati solo perché si tratta di cultura russa che attualmente viene veramente uccisa nell'occidente ed è una cosa innaturale perché anche le persone che stanno portando avanti queste idee degradanti che odiano i russi odiano la russia perché magari loro sono contro Putin ma loro non riescono a capire che Putin un giorno morirà come moriremo tutti noi e finirà anche magari la sua linea politica si trasformerà in qualcosa cos'altro però la cultura rimane sempre Dostoevsky rimane anche dopo la sua morte e nella storia dell'umanità rimane per sempre la memoria del momento in cui in occidente è stato vietato Dostoevsky in cui alla Bicocca all'università di Bicocca è stato vietato il corso di Paolo Norris Dostoevsky questo ricorderanno la memoria lo ricorderà oppure come a Firenze hanno vietato l'evento dedicato a cent'anni della morte di Dostoevsky o centocinquanta non mi ricordo quant'era cent'anni della morte di Dostoevsky più la posizione di un monumento tra l'altro dovevano hanno già approvato questo monumento già tutto era pronto e l'hanno cancellato all'ultimo momento solo perché improvvisamente è arrivata questa linea russofobica dagli anglosassoni e gli italiani subito si sono chienati e hanno iniziato ad applicarlo ovunque oppure a Genova cancellati sempre gli eventi sempre in quel periodo dedicati sempre a Dostoevsky per non parlare di tutto il resto di mostre tutto questo è molto degradante cari amici perché cultura russa per quanto magari non piace a certi signori e signore cultura russa fa parte dell'Occidente e sapete se in certo punto noi l'essere umano cioè qualcuno di noi nel momento di crisi adolescenziale nel momento della crisi dell'identità della ribellione contro le proprie origini della propria famiglia inizia a negare una parte delle proprie origini lui non diventa migliore e non diventa neanche maturo lui semplicemente si castra si castra dal punto di vista metaforico si castra e continua la sua vita con un'enorme mancanza e così adesso l'Occidente l'Europa occidentale tagliando la cultura russa che sicuramente fa parte Dostoevsky è un grande filosofo Tolstoi Chekhov grandissimo Lermontov Pushkin Leskov Merishkovsky Tvardovsky grandissimi scienziati russi come Mendeleev oppure Lamanosov e sono dei personaggi che fanno parte della cultura e della storia dell'Occidente dell'Europa occidentale e anche se adesso qualcuno si sforza per cancellarli in realtà questa cancellazione è un'autodistruzione l'Occidente non riuscirà mai cioè l'Europa occidentale non riuscirà mai a sostituire la cultura la cultura russa con quella sottocultura degradante statunitense che viene portata in giro per il mondo a suon di bombe con cibo spazzatura di vari fast food con la sottocultura musicale che veramente a volte quando si va nello zoo e si sentono le voci degli animali c'è più armonia e serenità nei suoni che si sentono nello zoo che in quei prodotti musicali che vengono diffusi oggi in Europa occidentale da certi propagandisti della cultura musicale statunitense e da molte persone che li copiano e cercano di diciamo trasmetterli quindi io credo che dovrebbe essere posto per tutto nell'occidente sia per la cultura statunitense sia per la cultura anglosassone che per la cultura russa rifiutare una cultura è sempre un'autocastrazione è molto triste vedere che i cinesi capiscono quanto è importante un approfondimento culturale mentre le occidentali le europee occidentali dimenticano di questa cosa è una cosa che a me ha vissuto in Italia per più di vent'anni fa venire veramente una tristezza comunque cari amici io vi ringrazio per la vostra attenzione vi ricordo che se volete approfondire le notizie che il nostro mainstream occidentale per qualche motivo non vuole condividere con voi perché non vuole farvi conoscere ciò che succede realmente nel mondo vuole strumentalizzare oppure vuole censurare certe idee certi punti di vista io vi invito di approfondire tutte queste informazioni sul mio canale privato telegram il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video unitevi ci sono già migliaia di persone che seguono il mio canale ogni giorno io faccio tanti approfondimenti articoli video le interviste e anche alcune mie riflessioni che io condivido con i miei abbonati qualche volta facciamo anche dei video delle video dirette dove io intervengo e anche i miei abbonati intervengono insieme parliamo liberamente senza censura senza nessun tipo di ostacolo di solito dirette durano tra un'ora e mezzo fino a tre ore quindi ha un tempo abbastanza diciamo per capirci per raccontarci questo canale io lo sto curando personalmente senza aiuto di nessun redattore senza nessuno che interviene e quindi è il modo più diretto di essere in contatto con me di comprendere diverse cose diversi ragionamenti e di informarsi in maniera obiettiva su ciò che succede nel mondo o almeno conoscere una variante che non viene raccontata non viene condivisa dalla propaganda occidentale vi invito quindi di abbonarvi al mio canale se invece volete sostenermi anche qua su youtube vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici come sempre vi ricordo che in tutte le librerie dettagli c'è il mio libro che si chiama la guerra e l'odio lo vedete qua alle mie spalle in questo libro vi racconto le origini della guerra in Ucraina se vi interessa conoscere tutte le dinamiche che hanno portato a questo conflitto vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere nei vostri commenti cosa ne pensate con questo cari amici io vi saluto vi ringrazio per la vostra attenzione vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene grazie a tutti